Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta Pocket Coffee. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa un'ora. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, uova, zucchero, cacao amaro, burro, caffè, lievito e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo polverizziamo per 20 secondi a velocità 10. Aggiungiamo adesso il burro, il cacao ed il caffè. E andiamo a cuocere per otto minuti, 50 gradi, velocità 3. A questo punto mettiamo da parte 180 grammi di questa crema e lasciamo raffreddare il resto all'interno del boccale. Dopo che la crema si è raffreddata continuiamo la ricetta. Mettiamo all'interno del boccale le uova, la farina e la vanillina. e facciamo impastare per un minuto a velocità 5. aggiungiamo il lievito e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4. Il composto è pronto. Versiamolo adesso in uno stampo da 24 cm con apertura a cerniera che abbiamo precedentemente rivestito con carta da forno e imburrato nei laterali. A questo punto andiamo a infornare a forno preriscaldato statico a 160 gradi per 40-50 minuti circa. La torta è pronta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. A questo punto completeremo la torta facendo dei fori con un bastoncino. Versiamo sopra la crema messa da parte. completiamo con dei cioccolatini per coprire i fori. Torta pocket coffee grazie e alla prossima ricetta Grazie a tutti. Grazie a tutti.